Ho bisogno di un'ideale, un motivo per cui vivere. Lei è qui per provare l'ordine come l'ordine vuole provare lei. Invocate il nome di Gesù, che sia lui a combattere al vostro posto. Perché sei qui? Sono qui per me. Perché il mondo non cambia. Se prima non cambio io. Non noi stiamo cambiando il mondo, lo stiamo solo replicando. Qui vi prepariamo ad essere uomini di Dio. O siete capaci di accettare questa servitù, o siete liberi di tornare nel mondo. Esco, mi ne vado, volevo dirtelo. Ho vissuto senza rinunciare a niente. Eppure mi sembrava di non progredire mai. Tanto per il mondo ero un vincente. Non credo in niente. Non credo a ci prostituire. Voce di avella, Non credo. nuove, Да. ospero anziamento. 内istic. Grazie.